Il comune di Pordenone dà una mano a singoli e famiglie in crisi economica e occupazionale a causa del Covid. Da lunedì 30 a novembre si può fare domanda online per ottenere contributi di diverse entità a seconda dell'ampiezza della famiglia. I bonus sono destinati a quella fascia di popolazione al di fuori dal circuito dell'assistenza sociale, ma che in questo periodo si trova in difficoltà e rischia di non avere risorse sufficienti. A volere gli aiuti sono stati l'assessore Eligio Grizzo e il sindaco Alessandro Ciriani. Penso di stanziare questi fondi per dare una risposta alle famiglie, ai single, a quanti in questo momento sono preoccupati per il loro futuro a causa della pandemia. Abbiamo già stanziato tanti milioni di euro per cercare di dare il nostro contributo ad affrontare l'emergenza. Questa però è una misura che si indirizza soprattutto nei confronti delle persone, di quanti magari hanno perso il posto di lavoro, di quanti hanno visto ridursi notevolmente il loro salario, di quanti non hanno ancora percepito la cassa integrazione, da quante persone magari la sera sono assillate dal pensiero di come mettere insieme il pranzo, la cena e dare risposta ai loro figli. Tutte le informazioni sui requisiti d'accesso e sulle modalità per presentare domande sono disponibili sul sito web del Comune di Pordenone. L'iniziativa è indirizzata ai residenti del capoluogo.